Un primo piatto che ricorda i sapori e i profumi delle apuane è quello che ha vinto in questa nuova tappa del concorso culinario primi di Toscana, che ha visto ai fornelli gli allievi dell'istituto alberghiero Marconi di Viareggio. Una sfida tra giovani chef lanciata dalla regione per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale, dove tutti i 14 istituti alberghieri toscani sono stati chiamati per selezionare il primo piatto da eseguire poi alla prova finale, che si svolgerà il prossimo 11 maggio all'istituto alberghiero Saffi di Firenze. I ragazzi hanno avuto modo di fare una cosa abbastanza insolita, cioè presentare i piatti a una giuria tecnica esterna composta di operatori del settore. Erano presenti cuochi, sommelier, anche un produttore vitivinicolo e questo ha creato una situazione del tutto particolare, perché chiaramente non era la didattica consueta, era una didattica diversa, una didattica fatta quasi dal vero. La giuria ha scelto tra sei primi quello che rappresenterà il Marconi alla prova finale. In questo caso a vincere è stata la zuppa Sapori delle Apuane, piatto creato dal team, composto da Greta Peroziello e Adriana Tutuianu. Le due cuoche in erba hanno puntato su prodotti semplici e a chilometro zero. Abbiamo utilizzato erbi di campo, che danno amarezza al piatto, castagne, prosciutto di bigoncia, che è appunto un prosciutto tipico di camaiore, stagionato dentro delle bigonce, che sono dei secchi di legno. In seguito, al centro del piatto, abbiamo posizionato il pane cotto precedentemente in forno. Abbiamo completato questo piatto con l'aggiunta del pane tostato e un filo d'olio quercetano. Il concorso primi di Toscana non finisce qui. La sfida a suon di pappardelle, tortelli, risi e zuppe continua.